Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi vi porteremo gli ultimi sviluppi su un caso che ha fatto scalpore. L'inchiesta sulle cooperative che si occupavano della gestione di migranti e minori non accompagnati. In particolare, parleremo delle dichiarazioni di Lilian Murecatete, moglie del deputato Abubakar Sumahoro, davanti al GIP di Latina. Nella parte di apertura di questo video, vi racconteremo come Lilian Murecatete abbia respinto le accuse di aver utilizzato i fondi delle cooperative pro-migranti per acquistare beni di lusso, come gioielli e vestiti costosi. La sua testimonianza è fondamentale per capire la verità dietro questa controversia. Lilian Murecatete ha dichiarato che non ha mai utilizzato le carte di credito della cooperativa e che i suoi unici pagamenti sono stati gli stipendi e le spese per il cibo destinato agli ospiti della struttura. Queste dichiarazioni potrebbero avere un impatto significativo sulle accuse nei suoi confronti. Nella parte finale di questo video, vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati su notizie e storie interessanti come questa. Non perdete tempo. Iscrivetevi ora e continuate a seguirci per le ultime novità.